Musica Terremoto, parte la macchina della solidarietà nel Vallo di Viano, sono allestiti numerosi centri raccolta di beni di prima necessità. Monte San Giacomo, vigili in prestito dateggiano, il sindaco accetta, fa un bilancio. Padula, sala Consilina, incendio nella notte, a rischio un ripetitore di telefonia a Trinità, auto in fiamme. Arena Bianca, domenica 28, la quinta edizione della passeggiata in bicicletta. Calcio, Valdiano, K.O. nel primo test della stagione, l'ebolitana vince di misura. Buongiorno e bentrovati al telegiornale di Uno TV. Il Vallo di Viano si è attivato velocemente a sostegno delle popolazioni del Lazio e delle Marche che sono state colpite dal terremoto. Volontari a Sassano, sala Consilina, Auletta, Polla, Pertosa e Caggiano in campo per raccogliere beni di prima necessità. Vediamo. E' entrata immediatamente in azione la macchina della solidarietà nel Vallo di Diano con un gran numero di iniziative finalizzate alla raccolta di beni di prima necessità da consegnare alle popolazioni colpite dal terremoto della scorsa notte. Un terremoto devastante che ha praticamente raso al suolo tre comuni tra Lazio e Marche. Rieti e Ascoli Piceno, le province più colpite con le immagini di accumuli e amatrice che stanno facendo il giro del web. In pochi minuti interi paesi sono completamente stati rasi al suolo e ai residenti e rimasta soltanto l'immagine di devastazione e macerie. Un'immagine che ha colpito anche il Salernitano e il Vallo di Diano che ha da subito compreso le necessità di quelle popolazioni e si è attivato con diversi centri di raccolta di beni di prima necessità. Mentre nei paesi colpiti dal terremoto si continua a scavare con un numero crescente di vittime, nel Salernitano e quindi anche nel Vallo di Diano ci si sta attivando per fornire alle popolazioni rimaste senza casa, viveri, vestiario e quanto necessario per andare avanti. Aiuti umanitari che sono partiti da associazioni, gruppi di volontariato, amici e anche gruppi politici con l'istituzione di punti raccolta. Ad attivarsi immediatamente è stata l'associazione di Anum Soccorsi di Sassano che si è già attivata annunciando l'apertura della sede per la consegna di pacchi contenenti beni di prima necessità come alimenti a lunga conservazione e prodotti per l'igiene personale e indumenti di qualsiasi genere. Importanti anche i beni che possono essere utili per i bambini. A partire dalle ore 16 di oggi è possibile consegnare i pacchi solidali presso la sede dell'associazione di Anum Soccorsi in via Orto a Varco Notarercole di Sassano. Anche a Trinità di Sala Consilina pronti con la raccolta di generi alimentari e non di prima necessità da destinare alle popolazioni colpite dal sisma. La Caritas parrocchiale di Trinità di Sala Consilina insieme ai giovani democratici e all'associazione Fiore di Mandorlo hanno attivato il punto raccolta presso l'ex canonica di via Casino Oliva nei pressi della farmacia. I volontari sono presso il punto raccolta già da questa mattina alle 10. Gli orari per la consegna dei pacchi a Trinità sono dalle 10 alle 13 la mattina e dalle 15 alle 19.30 il pomeriggio fino a sabato prossimo 27 agosto. A Sala Consilina sono attive anche altre associazioni per la raccolta di beni. L'associazione Antonio Finamore insieme al Gruppo Positivo, Ipazia, Associazione Radice, Associazione Arte e Mestieri sono in campo per la raccolta dei beni che saranno consegnati alle popolazioni attraverso i volontari del Gopi di Caggiano con un primo convoglio in partenza sabato mattina. Ad Auletta l'amministrazione comunale insieme alla protezione civile di Auletta sono in campo per la raccolta dei pacchi contenenti prodotti alimentari di prima necessità presso piazza Largo Cappelli a partire da oggi 25 agosto. In piazza è stato allestito un banchetto dove poter lasciare i pacchi. E ancora anche a Polla l'associazione Ragazzi del Ponte insieme alla locale protezione civile in campo per la raccolta di beni. Serve tutto. Sulla pagina Facebook dell'associazione è riportato l'elenco dei beni che al momento risultano utili alle popolazioni. Si può notare come serve praticamente tutto e si tratta di beni di qualsiasi genere, dall'acqua alle lenzuola, dalle scarpe ai giocattoli per i bambini. Chiunque vuole aderire a questa raccolta che si sta effettuando a Polla potrà farlo consegnando il proprio pacco presso la sede della protezione civile di Polla dalle ore 9 alle ore 13 e dalle 15 alle 18. E in queste ore si moltiplicano le associazioni e i gruppi di persone impegnati nella raccolta di beni di prima necessità su tutto il territorio valdianese a supporto delle migliaia di persone che sono rimaste senza casa e senza viveri a causa del recente terremoto e che al momento vivono in Tendopoli allestite da volontari e gruppi di soccorso. Oltre ai già citati punti di raccolta di Sassano, Trinità, di Sala Consilina, Auletta, Polla, anche a Sant'Artenio, le associazioni Sant'Artenio Ieri, Oggi e Domani, Abosa, Associazione Culturale Meridiano e la Proloco hanno istituito un centro di raccolta di beni di prima necessità presso Palazzo Fiordelisi in piazza Padri Domenicani. Il centro sarà operativo a partire da domani, 26 agosto, dalle ore 11 alle ore 13 e dalle ore 17 alle ore 19. Sulla pagina Facebook della Compagnia Teatrale di Sant'Artenio Ieri, Oggi e Domani è possibile trovare l'elenco dei prodotti utili. E cambiamo argomento. Il comune di Monte San Giacomo si è ritrovato per alcuni mesi ad avere a disposizione un solo vigile urbano. La situazione diventava ingessibile quando questi erano in malattia o in ferie. Con l'arrivo dell'estate poi nel paese fanno ritorno i cittadini che vivono all'estero e la popolazione aumenta considerevolmente. Il sindaco accetta quindi per far fronte all'emergenza ha chiesto aiuto al comune di Teggiano. Due agendi della Polizia Municipale Teggianese da poco più di un mese sono a Monte San Giacomo per 4 ore al giorno, dal lunedì al sabato, per 24 ore complessive a settimana. Abbiamo chiesto al sindaco accetta di fare un bilancio su questa nuova esperienza che il comune sta vivendo. Ascoltiamone. Quello abbiamo fatto per sopperire a un periodo, come dicevo prima, di maggiore presenza e quindi avevamo la necessità anche in vista di eventi e manifestazioni che si sono fatte tipo la istituzione del santuario di Sant'Anna e altre manifestazioni legate alle festività, insomma all'inaugurazione della nuova villa comunale, avevamo la necessità di avere questa presenza per dare una mano all'unico vigile che tra l'altro fino a un certo periodo è stato anche in ferie e lo è tuttora perché è giusto che, come è noto, ognuno ha diritto anche a un periodo di ferie. È un provvedimento che è stato fatto, ripeto, per un periodo determinato. Valuteremo in futuro come poter eventualmente aggiungere altre unità all'unico vigile che c'è, che tra l'altro tra poco dovrebbe andare anche in pensione. Ma io confido sempre in quella che è la disponibilità del cittadino perché il nostro è un paese che chiaramente non è che ha bisogno di tante persone che controllano queste poche macchine che sono sulla piazza principale. Se il cittadino rispetta le regole come dovrebbe essere io credo che potremmo tranquillamente andare avanti anche con un solo vigile ma c'è in vista un'iniziativa che purtroppo dobbiamo assumere a breve nei prossimi giorni, nelle prossime settimane quella della gestione associata del servizio di polizia municipale. Come è noto c'è una legge che impone ai piccoli comuni al di sotto dei 3.000 abitanti di gestire in forma associata una serie di funzioni e tra queste c'è anche quella della polizia municipale. Quindi noi entro il 30 dicembre dobbiamo chiudere anche questo tipo di accordo con gli altri comuni e probabilmente quella sarà l'occasione per fare anche una riorganizzazione non solo del nostro corpo vigili urbani ma in sintonia e in sinergia anche con gli altri comuni. Tra ieri sera e questa notte due incendi per fortuna senza gravi conseguenze hanno richiesto l'intervento della protezione civile e dei vigili del fuoco. Nella serata di ieri un'auto prende fuoco subito dopo il rifornimento a Trinità di Sala Consilina il secondo incendio invece è a Padula in località Costa. Questa notte un incendio improvviso si è verificato in località Costa a Padula. A lungo un costone roccioso si sono propagate le fiamme che sono state poi domate dai volontari della protezione civile di Padula allertati dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina. L'incendio ha richiesto l'intervento di due squadre della protezione civile che sono riusciti a spegnere le fiamme e ad evitare che le stesse andassero ad investire anche un ripetitore di telefonia ubicato proprio nei pressi del luogo in cui l'incendio è divampato. Intanto nella serata di ieri intorno alle ore 19 a Trinità di Sala Consilina un'auto, una Fiat Punto Bianca, ha preso improvvisamente il fuoco dopo aver fatto rifornimento. Il conducente, resosi conto di quanto stava accadendo, ha lasciato l'auto nel piazzale della stazione di servizio ed ha allertato immediatamente i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina. I caschi rossi hanno raggiunto in brevissimo tempo il luogo e provveduto subito a spegnere le fiamme che avevano invaso l'intera autovettura distruggendola, mettendo in sicurezza l'area circostante. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Sala Consilina a sostegno delle operazioni dei caschi rossi e per cercare di risalire alle cause scatenanti dell'incendio. A raggiungere immediatamente località Trinità anche la Polizia Municipale di Sala Consilina che ha provveduto alla regolamentazione del traffico veicolare particolarmente intenso in quell'ora di punta a tutela dell'incolumità degli automobilisti. Nelle scorse settimane si è costituita l'associazione Amodiano composta dai nove candidati non eletti della lista Rinnoviamo Amodiano. Questa sera alle ore 20 e 30 ci sarà l'inaugurazione della sede a Prato Perillo di Teggiano in via Vincenzo Dono con la presentazione del gruppo e delle finalità che l'associazione intende perseguire. Con l'inaugurazione della sede si avvia ufficialmente il percorso dedicato a Teggiano e ai suoi abitanti da parte della neocostituita associazione Amodiano. Questa sera alle 20 e 30 a Prato Perillo di Teggiano dietro alla chiesa del Sacro Cuore di Gesù la cerimonia di inaugurazione della nuova sede di via Vincenzo Dono. L'associazione è stata voluta ed è costituita dal gruppo dei non eletti in consiglio comunale della lista Rinnoviamo di Ano. Il gruppo è costituito da Olimpia Morena, Maria Rita Di Sarli, Cono Andriolo, Nunzio Cirone, Vita Antonio Cobucci, Antonio Delia, Gianluca Delia, Vincenzo Innamorato e Antonio Morena. I membri dell'associazione sociale politico-culturale di promozione hanno deciso di riunirsi in gruppo e di continuare nella collaborazione per perseguire da fuori quelli che erano gli scopi che li avevano condotti alla decisione di candidarsi e alla carica di consigliere nelle passate elezioni amministrative. Lo scorso 21 luglio quindi si costituisce l'associazione con un consiglio direttivo in carica per quattro anni. Il primo è così composto. Presidente Maria Rita Di Sarli, vicepresidente Cono Andriolo, consiglieri Vincenzo Innamorato, Olimpia Morena e Nunzio Cirone. Il gruppo si pone come finalità il perseguimento di interessi di natura collettiva e di solidarietà, oltre che di utilità sociale e con particolare attenzione alla promozione sociale. Restano quindi in campo e con la stessa determinazione i membri della lista Rinnoviamo di Ano che avevano deciso di avvicinarsi alla vita politica del Paese. Il loro intendo era quello di contribuire a rilanciare la vita nella città medievale al fine anche di dare una speranza e nuovi motivi per i giovani di restare. Essere quindi parte attiva della comunità è stato lo scopo primario che ha dato loro la forza di mettersi in gioco durante la campagna elettorale dello scorso mese di maggio. Ma la loro idea e la loro volontà non si è conclusa con la chiusura delle urne e con l'esito delle elezioni. Con grande determinazione hanno voluto proseguire negli appuntamenti di confronto ed hanno così deciso di costituirsi in associazione denominata Amo di Ano, proprio al fine di proseguire in quel percorso di individuazione di idee e progetti che potrebbero in qualche modo offrire opportunità di crescita per l'intero territorio ma anche per cercare, attraverso il confronto, di comprendere quali possono essere le esigenze primarie su cui intervenire e per le quali attivare progetti che siano concreti a lungo termine. Con l'inaugurazione della sede di questa sera parte quindi ufficialmente il nuovo impegno del gruppo a favore di Teggiano e di chi vive il Paese. Una delegazione della parrocchia di San Giacomo Apostolo di Monte San Giacomo guidata dal parroco Don Agnello Forte si è recata in Polonia in viaggio sulle orme della Divina Misericordia e nei luoghi in cui ha vissuto Papa Karol Wojtyla. Presso il palazzo arcivescovile di Cracovia sono stati ricevuti in udienza dall'ex segretario personale di San Giovanni Paolo II l'arcivescovo cardinale Stanislav Zivis il quale ha donato alla comunità san giacomese una reliquia del sangue di San Giovanni Paolo II. Un momento di grande partecipazione e commozione che al ritorno della delegazione in Italia coinvolgerà l'intera comunità san giacomese in quanto la reliquia consegnata dall'ex segretario personale del pontefice sarà esposta nella chiesa madre di Monte San Giacomo insieme ad un quadro del Papa Polacco. Nell'incontro di ieri i fedeli san giacomese hanno ricambiato il dono offrendo al cardinale un cesto di prodotti tipici. E cambiamo argomento. Veli ha imparato, Francesca Mele e Angela Setaro accedono all'ultima selezione dei cantanti che si contenderanno nella finalissima di Martina Franca l'ambito premio Mia Martini 2016. Le giovani cantanti valdianesi Veli ha imparato, Francesca Mele e Angela Setaro rientrano tra i 54 aspiranti cantanti per l'Europa del premio Mia Martini 2016. Si tratta di talenti già ascoltati e lanciati dalla banca Montepruno attraverso il celebre Montepruno Festival che per diversi anni ha messo in luce i giovani cantanti più talentuosi del nostro territorio. Le notevoli capacità canore delle ragazze hanno permesso loro di accedere all'importantissima selezione che precede la finalissima di Martina Franca e da qualche giorno sono aperte le votazioni per determinare le 15 voci che potranno esibirsi sul palcoscenico del festival dedicato a Mia Martini. È possibile votare fino alle 8 di sabato 27 agosto chiamando al numero 899-83330 comunicando il nome dell'artista in gara ed il relativo codice. Per le ragazze del Vallo di Diano i codici di riferimento a loro assegnati sono codice 19 per Veli ha imparato di Saraconsilina codice 30 per Francesca Mele di San Pietro Altanagro e codice 47 per Angela Setaro di Sassano. È un bellissimo risultato ha commentato il direttore generale della banca Montepruno Michele Albanese quello finora raggiunto da Veli, a Francesca e a Angela. Siamo particolarmente legati a loro e seguiamo sempre con grande attenzione l'evolversi della loro carriera artistica. La loro presenza in questo premio conferma il valore e la capacità canora di cui sono in possesso. Invito tutti a sostenerle perché sarebbe un'ulteriore soddisfazione poterle vedere insieme durante la finalissima del concorso. Sarebbe una bella pagina per il Vallo di Diano scritta soprattutto da tre giovanissimi talenti. E adesso ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale. Parte lunedì 29 agosto alle ore 21 il secondo torneo di calcio a 5 organizzato dal gruppo giovani della parrocchia della Santissima Trinità di Sala Consilina. Il 29 agosto alle ore 21 parte il torneo estivo di calcio a 5 organizzato dalla parrocchia della Santissima Trinità di Sala Consilina. Lo sport come occasione per ritrovarsi e stare insieme all'insegna della spensieratezza. L'evento è adatto a chi vuole divertirsi tirando due calci tra amici o a chi vuole mettersi alla prova magari in vista dei campionati invernali. A partire da lunedì quindi avrà luogo il secondo torneo di calcio a 5 voluto dal gruppo giovani della parrocchia della Santissima Trinità organizzato con il patrocino del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni che vede l'evento come un modo per far conoscere il territorio essendo il torneo aperto a tutti e non limitato ai giovani del posto. Le partite si svolgeranno presso il campetto del centro Dolce Vita in via Sagnano a Sala Consilina la quota di partecipazione di 100 euro a squadra ognuna delle quali potrà avere un numero massimo di 10 componenti tra adulti e ragazzi dai 15 anni in su. Ovviamente come ogni torneo che si dispetti sono previsti i lauti premi che andranno alle prime tre squadre classificate. La prima riceverà la Coppa più 350 euro la seconda la Coppa più una giornata in piscina presso il centro Dolce Vita e la terza la Coppa più una cena presso lo Serie Gioni di Sala Consilina. A tutti i partecipanti sarà consegnata una medaglia di partecipazione. Domenica 28 agosto ad Arena Bianca di Montesano sulla Marcellana è stata organizzata la quinta edizione della passeggiata in bicicletta. Vediamo. La SD Marco Pantani con il patrocino del comune di Montesano sulla Marcellana e del Giro d'Italia Amatori e la collaborazione dell'Associazione Bocciofila di Arena Bianca organizza per domenica 28 agosto la quinta edizione della passeggiata in bicicletta. L'ormai tradizionale appuntamento è un modo per stare insieme e divertirsi senza lo smog delle auto non è una gara agonistica ma un modo diverso per stare all'aria aperta. Dopo il raduno alle ore 15.30 in piazza Mario D'Acunti si parte dalle ore 16.30 la passeggiata non competitiva si snuderà lungo un percorso che collega Arena Bianca a Padula attraverso Tempa Lamandra con Trada Marcellino si arriverà in Viale Certosa a Padula per poi recarsi presso l'agriturismo Tressanti. Quindi si riparte percorrendo la strada provinciale 51 e la pedalata alla fine del tragitto giungerà di nuovo in piazza Mario D'Acunti. Al rientro è stato organizzato un buffet party per tutti la quota di iscrizione è di 3 euro declinando gli organizzatori ogni responsabilità per eventuali infortuni i minori di 10 anni sono obbligati ad essere accompagnati da un adulto. L'evento come si può immaginare è adatto a tutti gli appassionati agli sportivi di ogni età alle famiglie e ai bambini. È una giornata di svago ma anche un esempio di buona prassi un'occasione per affermare il valore del rispetto dell'ambiente e l'importanza dello stare insieme. E passiamo allo sport. Al San Giovanni di Sassano ieri pomeriggio in scena il primo match amichevole del precampionato del Valdiano. La squadra di Manfredini esce sconfitta per 2 a 1. 4-3-1-2 il modulo scelto ieri pomeriggio da mister Cristian Manfredini nella prima amichevole precampionato del suo Valdiano con il brasiliano Lucas Rodriguez ad agire dietro Santo Nocito e Peccanedda a guidare la squadra in cabina di Reggie Salvitelli mentre in difesa dal primo minuto Capitan Giordano è affiancato dall'altro brasiliano Guilherme Paolucci classe 97. Le Bolitana dal canto suo lascia Vitale in panchina e affida le sorti offensive al bomber dello scorso campionato di eccellenza Vincenzo Liccardi e le Bolitana a fare la partita mentre il Valdiano mostra grande attenzione difensiva e ottima capacità di chiudere gli spazi. La squadra di mister Nastri ha una maggiore di possesso palla ma la grande densità dei ragazzi in maglia bianca impedisce di trovare la via del gol Alla prima e unica disattenzione il Valdiano subisce la marcatura di Altieri Nel secondo tempo nonostante i cambi il copione non cambia Il Valdiano nell'ultimo quarto del match alza il baricentro con la difesa alta riesce rapidamente a riprendere il possesso palla e intrasando ancora di più gli spazi Al 34esimo come un fulmine a Ciel Sereno l'attaccante in prova Sulimane Guis trova un gran gol dal limite con la sfera che si infila all'incrocio dei pali per il pareggio passano pochi minuti e Vitale al 41esimo aggancia lo spiovente proveniente dalla sinistra la palla quasi come fosse telecomandata dall'ex Sorrento si incolla al suo destro al momento dello stop poi in diagonale trafigge l'incolpevole Tortola per il 2-1 finale Buone indicazioni per la compagine Blaugrana che pur orfana di Spinelli e con Costanzo a mezzo servizio ha saputo tenere testa una delle pretendenti alla vittoria finale del torneo Acque tranquille intanto sul fronte mercato una ciliegina sulla torta è quella che la società vuole regalare a mister Manfredini in questi ultimi giorni di mercato sarà fatto un tentativo per un esperto centrocampista o una prima punta in grado di far fare il salto di qualità alla squadra per il resto poco o nulla si muoverà con la casella di secondo portiere che potrebbe essere coperta da Davide Villani portiere nella prima parte della stagione nell'anno del salto dalla promozione all'eccellenza infine la squadra riprenderà gli allenamenti in attesa che venga definita una nuova vichevole prima del debutto in Coppa Italia in programma il prossimo fine settimana in casa del Calpazio e ascoltiamo ora le interviste realizzate al capitano del Valdiano Antonio Giordano e al direttore dell'Ebolitana Taglianetti quest'ultimo oltre a parlare della partita traccia un bilancio del ritiro svoltosi in terra valdianese e conclusosi proprio con l'amichevole di ieri sì è stato un ottimo test con l'Ebolitana anche se noi sappiamo che l'Ebolitana è comunque lotta per il campionato noi ci stiamo allenando abbastanza bene il mister ci sta facendo correre ripetute balzi velocità però diciamo che oggi non eravamo molto sulle gambe normale siamo alla fine della preparazione però è stato un ottimo test allora come al solito le nostre aspettative sono quelle di salvarci poi naturalmente ciò che avverrà nel campionato sarà tutto di guadagnato i ragazzi parlo un po' dei ragazzi perché i ragazzi nuovi si stanno inserendo bene con noi ragazzi già da un po' di tempo da qualche anno che siamo qui e niente si stanno allenando abbastanza bene beh sicuramente volevo innanzitutto ringraziare tutta diciamo la cittadinanza che ci ha accolto con grande entusiasmo e grande accoglienza niente è un ritiro positivo dove abbiamo lavorato bene dove il mister ha avuto tutto il tempo per diciamo fare le giuste valutazioni per cercare di dare alla squadra la mentalità e le idee che deve trasmettere alla squadra poi alla fine diciamo che queste amichevoli in questa fase qua diciamo che hanno un significato relativo niente ci riteniamo soddisfatti ora riprenderemo dopodomani ad Eboli aspettiamo un attimo di chi incominciano le partite vere per poter dare un giudizio più come dire più consistente che campionato si aspetta alla vigilia proprio dall'inizio del torneo beh è inutile che ci nascondiamo questa è una squadra costruire per cercare di arrivare fino alla fine per giocarsela fino alla fine sappiamo che la diciamo la candidata numero uno rimane il sorrento però noi vorremmo giocarci alla fine alla fine l'obiettivo è quello di raggiungere la serie D in questo campionato ci sono varie opportunità per raggiungere la serie D la Coppa Italia la vincitrice del campionato e eventuali playoff noi non ci nascondiamo vogliamo raggiungere la serie D con questo servizio si chiude il nostro telegiornale vi ringrazio di essere stati con noi e vi auguro un buon proseguimento di giornata Grazie a tutti